Ciao da Skippy Offroad Pro Racing, benvenuti ad A2 per 2 Siete pronti? E allora iniziamo! Nome? Filippo Arturano Paolo Nick Name Fili Manto DJ 31 Che classe frequenti a scuola? Prima media Prima media A quanti anni? La prima moto? Cinque anni Tre anni e mezzo E la prima gara? Otto Sei anni Il tuo team attuale? Team Lavetti Motorsport Fiamme Oro Polizia di Saro Che risultato hai ottenuto nel campionato italiano Junior Motocross 2019? Secondo al campionato italiano Primo posto Conosci il tuo avversario di questa doppia intervista? Sì Sì, lo conosco Chi va più forte? Io Siamo entrambi forti Facci sentire come fa la tua moto ai 15 secondi Bam, 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 bam E ai 5 secondi? Faccio una serie di whoops Fuori giri Chi è il tuo pilota preferito? Mattia Guadagnini King Hazard E perché? Perché mi piace come guida e il suo carattere Perché guida bene Preferisci vincere un titolo mondiale MXGP o il supercross americano? Titolo mondiale MXGP Supercross americano Pizza o hamburger? Hamburger Pizza La tua pista preferita? Ottobiano Mantua Qual è il tuo punto di forza? Le curve Resistenza E il tuo punto debole? Il fango Le partenze La tua gara più bella? Europeo 2019 Slovenia Campionato italiano Mantua 2019 E la più brutta? Europeo Francia 2019 Salmoniano sul Polaro 2019 Qual è la tua canzone preferita? Va tutto bene Autoblu E allora cantaci il ritornello Autoblu corro con il mio frano Io ho messo lì 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 Non tornare in città Cosa fai per allenarti al di fuori della moto? Attività fisica e vado in bici Trial e bici Chi ti allena? Fabio Lavetti Fino l'anno scorso papà E da quest'anno fiamme ora Polizia di Stato Hai mai pensato ad un altro sport oltre al motocross? No E perché? Perché ne ho provati qualcuno Però è quello che mi piace di più Perché mi piace fare motocross Sole o pioggia? Sole Duro o sabbia? Sabbia Fango o asciutto? Asciutto Fango Due tempi o quattro tempi? Due tempi Facci sentire una moto a due tempi a questo punto Vai col quattro tempi Facci sentire un quattro tempi a limitatore Saluta tutti come vuoi Ciao a tutti Ci rivediamo in pista Ciao amici A presto